Gli europei sono ad un passo Vi sottoponiamo ad un quiz di 7 domande per scoprire chi di voi due li conosce meglio Per rispondere dovete prenotarvi prova pulsante Marta Daniela B Prima domanda Lunedì 17 luglio debutterete contro la Russia In quale città? B Daniela Rotterdam Seconda domanda Qual è la squadra campione d'Europa in carica? Germania Terza domanda Tre opzioni di risposta Quale nazionale ha vinto la prima edizione giocata nel 1984? Danimarca, Spagna o Svezia? Svezia Marta Svezia Solo perché sei arrivata prima Quarta domanda Questa domanda c'è un indizio Chi era l'allenatore dell'Italia ad Euro 2013? Bè! Pè Puoi rispondere senza indizio Caprini Ma scusa ma io aspettavo ero onesta L'onestà non vale nei giochi Quinta domanda Divertimento 3 opzioni di risposta Attendete le 3 opzioni L'Italia vanta 12 qualificazioni alla fase finale Si tratta di un record che condividiamo con un'altra nazionale Di chi si tratta? Germania, Inghilterra o Norvegia? Bè! Germania Bip Restano le opzioni Inghilterra e Norvegia Norvegia 3 a 2 per me Magna vince tutto Non si è qualificata da 10 volte Sesta domanda Chi è stato il capitano dell'Italia Nelle ultime 3 edizioni? Bè! Marta 4 a 2 grande pao Vale doppio dai Vale doppio questa Settima e ultima domanda Euro 2017 Gruppo B Quali squadre affronterebbe? Bip Marta Ma dai! Russia In ordine Russia Svezia Ha sbagliato l'ordine Sbagliato Vabbè Trenno Hai detto in ordine Hai ragione Russia Germania Svezia Giusto 4 pari